Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A1 per presenza di veicolo fermo o in avaria tra Chiusi e Valdichiana per chi viaggia verso nord. Prudenza inoltre sempre in A1 per nebbie e banchi tra Valdichiana e Chiusi e tra Sassomarconi e Aglio. Ricordiamo che è in vigore l'obbligo di dotazioni invernali su gran parte delle strade della Toscana. Elenco completo sui nostri canali social. Siamo al traffico urbano di Firenze e stanotte è previsto l'ampliamento del cantiere tramviario della linea Fortezza San Marco al centro di Viale Lavagnini. L'area interessata dai lavori si allarga stanotte fino a Via Polizia. A inizio gennaio in programma il completamento dell'aiola in Viale Milton e dal 9 la realizzazione della sede tramviaria in Via Cavour. Buongiorno aversi in Toscana Info a servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.